È un evento che conferma il ruolo dell'Italia come stakeholder chiave nel processo preparatorio del Vertice ONU sul sistema alimentare del prossimo mese di settembre a New York. L'Italia, paese ospite delle Agenzie del Polo Romano dell'Alimentazione delle Nazioni Unite e leader mondiale in materia di sicurezza alimentare e di nutrizione, ospitando nell'anno della sua presidenza del G20 il Pre-Vertice, intende comunicare al mondo l'impegno verso un'agricoltura migliore, filiere produttive e sostenibili e stili di vita salutari. Tre giorni dedicati a presentare attraverso l'approccio scientifico più recente le buone pratiche provenienti da tutto il mondo, lanciare una serie di nuovi impegni mobilitari e finanziamenti dalle anze. Il Pre-Vertice avrà una forma ibrida, per tre giorni si alterneranno ospiti in presenza presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e la Ricoltura, FAO, a Roma, mentre altri parteciperanno da tutto il mondo attraverso una piattaforma virtuale. L'intento è quello di portare i leader globali ad intraprendere, come ha sottolineato nel suo intervento di apertura il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nuove azioni, mettere in campo soluzioni e alleanze per avvicinarsi, nel post-pandemia, ai 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, ognuno dei quali prevede sistemi alimentari che sostengano la nutrizione, la sostenibilità e l'equità.